Buonasera a tutti, buonasera a tutti, sono Paola Biondi, benvenuti al mio salotto di un mistero. Come sapete sono una giornalista e vi aspetto l'appuntamento con le mie dirette due volte al mese. Queste mie dirette ospitano appunto i testimoni di storie insolite, anche appassionanti, alcune delle quali sono presenti contenute nel mio libro, nel mio romanzo che si intitola L'amore sottile. Questo romanzo contiene degli aspetti misteriosi, delle interviste. Questa puntata ci vede insieme con un ospite speciale, perché parliamo delle energie sottili. Con noi c'è Arianna Mendo, che è una vecchia conoscenza con gli amici di Bridges of Light, ma questa sera è in una veste diversa. Noi la conosciamo come esperta di astrologia previsionale, di astrologia karmica, anche di archeologia misteriosa, ma questa sera ci parla dei luoghi dell'energia. Allora, i luoghi dell'energia sono tutte le cose, perché in realtà l'energia è dovunque. Allora, se l'energia è dovunque, i luoghi sono anche le persone. Quindi, come si manifesta questa energia, questa energia sottile? Voi sapete che il mio romanzo si chiama L'amore sottile. Ecco, questa parola sottile apre tutto un mondo. Tutte queste cose sottili sfuggono alla nostra percezione sensoriale diretta, ma ci danno delle sorprese veramente incredibili. e questo sottile si manifesta in una maniera a volte anche inspiegabile. Ecco, il mistero dell'esistenza è anche questo. Ciao Arianna, come stai? Ciao Paola. Intanto grazie per questo invito. Sono molto felice di essere presente nel tuo salotto, davvero mi fa piacere. Ovviamente un benvenuto a tutti gli ascoltatori. Un grande abbraccio proprio da parte mia. Non ci prenderemo poi i tuoi interventi. Senti, iniziamo dall'inizio a questo punto. Allora, che cosa si intende per energia sottile? Per energia sottile? Cioè, se tu dovessi dare una definizione per qualcuno che è un po' lontano da questo mondo? Allora, direi questo, che sono quelle energie che normalmente noi non vediamo a occhio nudo, ma possiamo appunto percepire. Allora, sappiamo oggi, anche dalla fisica quantistica, no? Che tutto è energia, tutto vibra, che viviamo proprio all'interno di un oceano di energia di diverse frequenze. È un'energia sempre in movimento e direi che l'energia sottile è proprio quella che noi normalmente non riusciamo a percepire ad occhi nudi, no? E quindi è quell'energia che possiamo più che altro percepire con i nostri sensi più intuitivi, no? Usando proprio quella percezione che comunque ognuno di noi ha più o meno sviluppata, no? E certo, noi oggi viviamo in una realtà dove si tende a privilegiare la razionalità e abbiamo un po' arrugginiti questi sensori che ci permetterebbero di essere molto più in contatto con questa parte invisibile, con questa parte appunto del sottile che è presente davvero ovunque e c'è intorno a noi perché noi abbiamo un'aura e normalmente non la vediamo, no? Quest'aura, non abbiamo questa capacità sviluppata di vedere la nostra energia, no? Ma c'è intorno alle piante, c'è intorno agli animali, i luoghi sono carichi di vibrazioni e di energie e poi ci sono proprio altri piani, altre dimensioni che si muovono appunto su una frequenza diversa dalla nostra per cui normalmente ci è difficile vedere soprattutto ma anche il più delle volte percepire, no? Ecco, quindi definirei energie sottili proprio questo. Ecco, appunto, nel mio romanzo appunto la protagonista, Lara, si trova a esperire una serie di incontri che poi l'aiuteranno a superare un periodo molto buio. Questi incontri sono anche energia perché si parla di persone, si parla di concatenazione di situazioni, poi magari la vedremo meglio. Però questi incontri così accadono in un momento della vita e in realtà forse qualcuno potrebbe pensare che ci sia un destino che ci porta ad incontrare quella data persona che ci dice quella data cosa in quel dato momento. Ma probabilmente il destino non è una spiegazione così esaustiva. Allora, questi incontri, questi incontri, come potresti, dalla tua esperienza, poi approfondiremo perché tu hai una vasta esperienza in materia, una cosa per volta, vediamo un po' anche lì a livello di definizione, come li potremmo chiamare questi incontri sottili? Sì, allora, diciamo questo, io ho un po' due linee di interpretazione, no? Allora, una è che dal mio punto di vista, occupandomi anche tanto dell'aspetto che riguarda le reincarnazioni, le vite passate, ci sono degli incontri che sono in qualche modo, ecco, sì, predestinati perché sono anime che noi abbiamo già incontrato in altre vite, ci sono magari dei sospesi e quindi la necessità di incontrarsi nuovamente o anche proprio una spinta animica molto forte ad incontrarsi e credo anche che in molti casi ci siano come dei patti decisi precedentemente tra alcune anime di ritrovarsi a un certo punto della loro vita, no? Questo ultimamente diciamo anche che si è potuto constatare attraverso quelle regressioni tra le vite in cui appunto l'individuo che si mette in regressione va a vedere quelle scelte, quelle spinte appunto che l'anima ha prima di scendere e incarnarsi e si è visto appunto che ci sono diversi casi in cui c'è come un patto fra certe anime di ritrovarsi a un certo punto della vita, no? E quindi questo è un aspetto secondo me del sottile. Penso anche a delle trame però, a me piace a volte pensare proprio a delle trame, no? che così si intrecciano proprio in altre dimensioni e che permettono, quando noi magari abbiamo un richiamo molto forte, un intento molto forte, permettono proprio che le situazioni evolvano in una certa direzione, e quindi ci siano determinati incontri o si arrivi in un determinato luogo. Ecco, che ci sia proprio come una trama al di sopra. E a volte penso anche questo, che in certi casi certi incontri vengono anche un po' tessuti da chi ha lasciato questa dimensione, perché rimane comunque un contatto tra le dimensioni e magari aiuti certi incontri fra le persone. Ecco, che quindi ci siano addirittura secondo me tre, ecco direi a questo punto, tre diverse modalità per cui si possono incastrare determinati incontri. Però io credo che un po' a tutti succeda di sentire che quell'incontro doveva arrivare, che doveva proprio andare così. E può essere appunto l'incontro con una persona come l'incontro appunto con un luogo, perché i luoghi hanno comunque una... Ecco. Giocano un ruolo molto importante nelle nostre vite. Sì, è molto affascinante questo discorso. Poi piano piano ci addentreremo. Sicuramente è anche carina questa cosa, del fatto che comunque sia possibile darsi appuntamento nella vita, no? Oppure dopo la vita, chi lo sa, sono cose... appunto le vediamo. Questa volta volevo introdurre le mie domande ad Arianna, partendo appunto da piccole frasi che esistono nel mio romanzo, ecco. Verso l'inizio del romanzo si parla di una persona, non vi dico chi, perché se no vi svelo tutto il mistero. No, allora, leggo. Con quel bel ragazzo taciturno, il gioco del filo invisibile era iniziato fin da subito, per srotolarsi nel tempo attraverso una serie di curiose e sottili coincidenze. Ecco, le coincidenze anche sono qualcosa di sottile, perché forse nulla è un caso anche da questo punto di vista. Cosa ne dici? Sì, secondo me è così, nulla è un caso assolutamente, per cui quelle che appunto sembrano coincidenze, anche lì ci sono certamente questi fili sottili che permettono che si realizzino queste coincidenze. Sì, anche io credo che non siano assolutamente dei casi. Tutto avviene proprio mosso da fili sottili, da fili invisibili che portano in una determinata direzione. E questo avviene in particolare proprio a chi anche ha la capacità poi di coglierli questi fili sottili, queste coincidenze. Quindi sì, assolutamente sono della tua idea, è così. Ecco, vado avanti, un pochino più avanti. Allora, una che aveva sempre sostenuto di avere qualche sottile contatto con l'aldilà, era la prozia di Lara. Diceva di avere dei segni, una porta che sbatteva senza vento, una luce strana o un'ombra fra le tende. Ma non aveva la minima paura. I suoi morti le parlavano, le mandavano dei simboli di affetto che lei allegramente ricambiava con pensieri lievi. Ecco, anche in questo caso, allora, percezioni, segnali. Ci addentriamo in un aspetto un po' più profondo della vita, anche se effettivamente la vita poi ha questa duplice realtà di assenza e non assenza, di esistenza e non esistenza. Quindi, diciamo che la parola morte è forse qualcosa che sembra che stia andando verso una specie di... Sta andando a sciogliersi quasi, no? Diciamo che, vabbè, la zia della protagonista del mio romanzo, anzi la prozia, era una che non aveva paura di niente. E quindi percepiva, percepiva delle cose che lei, come dire, che lei adduceva alle persone care che non aveva più vicino. E quindi, anche per questo motivo, non aveva nessuna paura, tra virgolette, della morte. Questo aspetto poi lo vediamo ancora con Arianna, più in là, perché, però prima volevo domandarti, ma ci sono persone che percepiscono, sentono queste cose, altre persone che non sentono niente. Oppure non vogliono sentire. O no, non vogliono magari sentire. Sì, certo, perché ci sono comunque individui che sono, appunto, molto più legati a una razionalità per cui hanno difficoltà a sentire, no? Sono molto pragmatici. E come dicevo, anche all'inizio del nostro incontro, abbiamo anche un po' i sensori arrugginiti, no? Ma oggi sicuramente, sono d'accordo con te, c'è molta più apertura rispetto a questi ambiti un po' misteriosi, no? Questi ambiti percettivi, sensitivi. Però sì, ci sono persone che hanno meno facilità. Mentre ci sono persone che hanno una sensibilità incredibile. E quindi, con molta facilità, comunicano proprio con altre dimensioni. Possono vedere, sentire. hanno proprio una facilità estrema. Ma cosa vedono? Cosa sentono? Perché io forse faccio parte dell'altro gruppo o di quello di metà. Anche perché, voglio dire, non è esattamente il mio mestiere ad entrare. Io da giornalista racconto storie e non prendo posizioni sulle cose che le persone mi raccontano. Però, umanamente, la domanda viene spontanea. Cosa vedono questi? Perché io, quando parlo con qualcuno che ha a che fare con i fantasma nel tastello, che sarà poi oggetto di una prossima puntata di diretta, ma quando parlo con qualcuno mi dice ma io ho visto, ho visto una persona. Allora, certe volte queste persone sono delineate così. Era il... Altre volte sono fruscini, sono un qualcosa che passa vicino. Ecco, ma... A volte sono oggetti che si spostano... Ah, adesso, adesso... Adesso... Non esageriamo, Yanna, perché vabbè, io potrei anche impressionarmi. Però, effettivamente, so che queste cose succedono. Succedono, sì. Poi lo vedremo, lo vedremo poi con i parapsicologi, con tutti i fenomeni poltergeist, e tutte, sono cose anche interessanti queste. Però, adesso, in questo momento, noi siamo su un livello un attimino più, appunto, della percezione, no? Che è una cosa meno... Meno fisica, tra virgolette, no? È una roba che uno o ci crede o non ci crede, no? Dipende anche dalla resistenza, probabilmente, che uno fa. Ma, per esempio, io faccio resistenza, perché io se vedessi qualcosa non mi vedi paura. Certo, perché l'apertura, essere aperti, è come l'aprozia di cui stai raccontando. Cioè, per lei è abbastanza normale, ha un'apertura, non ha paura, non ha timore, quindi è aperta proprio a sentire. È chiaro che, per esempio, se uno ha comunque timore di percepire qualcosa, di sentire qualcosa che magari arriva da dimensioni diverse, chiude proprio quella porta, la chiude, crea una barriera, per cui a quel punto non percepisce più nulla, no? E magari si lamenta anche di non percepire più niente. A volte può anche succedere, oppure preferisce proprio mettere questa barriera e quindi dire non voglio sapere che cosa c'è al di là di questo, no? Quindi... Però, ecco, questo deriva anche in questo, è abbastanza influente l'ambiente familiare in cui si è cresciuti. Per esempio, nelle tue ricerche, dato che tu hai orientato parecchio la tua esistenza in questi termini, per esempio, tu hai qualcosa di autobiografico in questo, nel senso che hai una ricerca, hai ereditato la capacità di ricercare nel sottile, da qualcuno nella tua famiglia, da, non so, hai avuto un'azia che prediceva il futuro, non lo so. No, questo no, non è nella mia famiglia, no, non c'era esattamente questo, però devo dire che da parte, per esempio, dei miei genitori, c'era molta curiosità per queste realtà, per cui non mi hanno mai messo delle barriere, non mi hanno mai messo delle barriere, no? Quindi, questo mi ha facilitato moltissimo. Avevo anche una nonna che era molto brava a praticare con le erbe, cioè lei era bravissima, coltivava proprio le erbe, aveva il suo orto e quindi venivano da lei per chiedere appunto l'erba adatta, magari un certo problema di salute, quindi c'era comunque nella mia famiglia una eredità un po' di questo tipo. E poi soprattutto, comunque crescendo vicino a Torino, questi argomenti sono sempre stati argomenti non tabù alla fine, rispetto magari ad altre zone del nostro paese, questo anche in tempi addietro e quindi c'era maggiore facilità se uno si interessava a questi argomenti, si trovava maggiore facilità a parlarne o comunque anche trovare libri, persone che comunque se ne occupavano, ecco sì. Quindi non ho mai conosciuto barriere rispetto a questo. Poi giovanissima sono anche andata in Inghilterra e lì negli anni Ottanta era una porta aperta su questo, quindi ho avuto modo di nutrirmi rispetto a questi argomenti tantissimo. Sì. Ecco, quindi ecco, quindi torniamo appunto prima io dico che insomma un po' in realtà la paura la paura fa parte delle persone, cioè la paura del buio, la paura delle presenze, la paura in senso generale è una cosa con cui probabilmente dobbiamo convivere al di là del fatto di ammettere o non ammettere la realtà di alcune cose che potrebbero essere un po' inquietanti. La paura è un elemento esistenziale, fa parte dell'essere umano ma come si può fare se uno ha un blocco di questo tipo che poi diventa diventa faticoso perché poi appunto è un blocco quindi è un qualcosa che impedisce al ritmo normale della vita di fluire e quindi anche di godere delle cose positive e questa paura si manifesta in tanti aspetti perché non è solo la paura dei fantasmi che dicevano prima o delle cose ma è anche la paura di non essere adeguati la paura di perdere qualcosa la paura di insomma abbiamo mille paure come si può come dire provare tu parlavi prima di regressione c'è anche ci sono delle tecniche anche legate alla regressione che in qualche maniera sciolgono questi blocchi si possono anche sciogliere questi blocchi sì ovviamente la persona deve essere anche pronta a fare questo tipo di esperienze diciamo che se noi parliamo delle paure rispetto a questo mondo dell'ignoto dal mio punto di vista occorre non forzare mai troppo bisogna un attimino anche imparare a conoscere la qualità delle energie sottili in modo da cercare di entrare in contatto il più possibile con energie che siano comunque positive e quindi diciamo che è un po' un allenamento anche mentale ecco sulle paure che poi la paura è un'emozione un allenamento mentale o un lavoro anche su queste paure per esempio io trovo che facendo proprio un lavoro attraverso ad esempio i meravigliosi i fiori del dottor Bach che vanno a lavorare proprio per trasformare le nostre paure o sensi di scoraggiamento inadeguatezza ecco quello può essere un cammino che ci permette pian piano di evolverci verso quella parte invece che ha maggiore coraggio di affrontare le situazioni della vita diciamo ecco sulla paura bisogna lavorarci tanto sopra non c'è secondo me altra alternativa forse bisogna accettarla bisogna anche un po' conviverci imparare a conviverci perché anche negarla completamente diventa innaturale certo assolutamente perché a volte la paura è anche qualcosa che ci aiuta a difenderci da situazioni che possono essere magari pericolose quindi è comunque da prendere assolutamente in considerazione se la paura però diventa un blocco che non ci permette poi di avanzare nella vita allora lì sì bisogna intervenire lavorandoci sopra e ci possono essere vie attraverso la psicologia attraverso i rimedi floreali a volte attraverso appunto la regressione che magari ci aiuta a andare a ripescare qualche esperienza di vita passata che ci ha bloccato e che possiamo liberare ecco sciogliere quindi in quel caso sì fare un lavoro su noi stessi lo ritengo molto importante anche perché tu prima parlavi dell'aura che voglio dire abbiamo a volte abbiamo anche affrontato insieme proprio come argomento tuo di elezione poi avremo anche modo di eventualmente di sviscerarlo meglio ma appunto anche dal cioè per l'aura in questo senso tradisce c'è anche questo genere di emozioni di sentimenti ecco si vede certo perché nell'aura si possono vedere assolutamente si possono vedere queste cose certo se noi abbiamo dei blocchi perché proprio il colore stesso a volte dell'aura se ci sono per esempio colori opachi non luminosi ecco ci possono appunto esprimere blocchi o paure che la persona ha e quindi sì attraverso la lettura dell'aura si possono proprio anche vedere assolutamente sì tornando la paura tu mi hai raccontato una cosa che all'inizio diciamo mi hai raccontato che ti è successo da giovanissima quando hai scoperto diciamo di avere una sensibilità un po' particolare e lì l'ultima che ha avuto paura eri tu si sono spaventati tutti gli altri e tu no cioè in quel momento lì come dire eri beatamente inconsapevole di aver fatto la tua prima la tua prima conoscenza con le energie sottili in quel senso lì ce le ce le vuoi raccontare ce le vuoi raccontare questo episodio certo certo lo racconto volentieri allora avevo 16 anni mi è capitato di partecipare a diciamo una seduta cosiddetta spiritica no eravamo tutti giovanissimi eravamo tra l'altro amici ci legava la musica no quindi ci legava questo aspetto della musica e tutti collaboravamo per quelle radio private famose di un tempo no tra queste persone che collaboravano c'era un ragazzo che diceva di avere delle capacità medianiche di sapere condurre delle sedute spiritiche noi lo prendevamo sempre tantissimo in giro però fino a che lui insomma ci ha lanciato una sfida e ci ha detto vabbè non ci credete allora organizziamo una serata e andiamo a fare una seduta spiritica e quindi noi abbiamo accettato la sfida no e ci siamo ritrovati in una notte che davvero Paola era di quelle buia e tempestosa buia e tempestosa allora era luglio ma pioveva a dirotto con quei temporali che a volte capitano in montagna in Val di Susa infatti eravamo in Val di Susa dove io appunto abitavo in quel periodo e andiamo in questa casa che si trovava in montagna che era una casa che comunque apparteneva a questo ragazzo che diceva di essere medium quindi ci troviamo lì ci mettiamo intorno a un tavolo come si fa di solito nelle sedute di questo tipo e formiamo proprio una catena lui ci spiega tutto perché noi eravamo tutti i digiuni assolutamente rispetto a questi argomenti quindi ci fa fare la catena ci spiega che avremmo dovuto metterci in concentrazione chiudere gli occhi e assolutamente non parlare fino a quando a un certo punto non avremmo sentito qualcuno appunto proferire parola così ci aveva detto lui non avrebbe fatto parte della catena ma sarebbe stato al di fuori per condurre questa questa esperienza così abbiamo fatto ci siamo messi tutti lì concentrati e a un certo punto che cosa succede che io sento che questi occhi non riuscivo più a tenerli chiusi c'era come una forza sì c'era come una forza che mi spingeva ad aprirli allora io mi sforzavo di tenerli chiusi perché dentro di me dicevo caspita non vorrei che proprio a causa mia questa seduta non si verificasse no oppure magari di vedere chissà che cosa no pensavo pensavo più che altro a questo dicevo ma non vorrei mai che a causa mia non si verificasse quindi tengo questi occhi belli chiusi non ci riesco si aprivano e a un certo punto anche comincio a respirare molto profondamente no a quel punto il medium che come dicevo era al di fuori della seduta si avvicina e mi chiede se era la persona che lui stava aspettando e di fare un cenno con il capo se sì o se no allora anche lì io non capivo esattamente cosa stesse succedendo però mi ricordo che a quella domanda io ho risposto di no allora lui mi fa una seconda domanda e mi chiede a quel punto se io ero Ida morta tipo il 3 maggio del 1850 adesso non ricordo la data con precisione ma era una data di questo tipo e a quel punto io rispondo di sì che ero quella diciamo quella persona e a quel punto lui mi fa qualche altra domanda io comunque sento che non era da un lato io volevo porre resistenza a questa cosa no perché io stavo sentendo proprio che dentro di me c'era come una forza che si stava impossessando cioè era veramente potente questa cosa no però era talmente forte allora lì ho cominciato a pensare forse questa è la seduta perché io non l'avevo mai fatta non sapevo veramente cosa stesse capitando però c'è questa forza era talmente potente che io non potevo più resistere quindi a quel punto ho lasciato andare ho detto ok succeda quel che succeda io mi lascio andare non potevo resistere allora a quel punto quando io mi sono lasciata andare sono caduta in una trans completa perché poi questo me l'hanno detto le persone che assistevano a parte che c'era anche un registratore che stava registrando tutto quindi io poi ho sentito la registrazione dopo quindi io sono caduta in una trans completa ok allora quello che mi hanno detto gli altri partecipanti dopo è che loro si sono spaventati uno perché hanno capito che non era un gioco perché io non avevo mai partecipato a nulla del genere non conoscevo queste cose quindi non potevo certamente no fare tipo un teatro e inventarmi la cosa no e poi dicevano che avevo gli occhi praticamente dove non c'era più la pupilla e faceva molta impressione cioè una cosa wow quindi guarda quella mia quella era l'influenza degli sceneggiati televisivi può essere secondo me comunque insomma alla fine in questa trans io ho raccontato la storia di chi ero in quella vita questa Ida che il medium aveva richiamato perché lui aveva già fatto abbiamo scoperto dopo delle sedute lì e sapeva che lì questa donna era stata uccisa a suo tempo da due persone che erano arrivate lì in quel borgo avevano chiesto ospitalità e poi avevano commesso questo omicidio e anche la cosa particolare è stata che io ho risposto in qualche caso parlando il dialetto di quel periodo quindi il dialetto di quel periodo no che dialetto era Piemottese Piemottese della montagna famosa per gli avvistamenti certo famosissima UFO eccetera quindi è un dialetto app sì quindi parlavo anche ho parlato anche così la cosa difficile è stata riportarmi però ecco quella a volte è la difficoltà durante queste sedute riportarmi diciamo essere cosciente ci è voluto molto tempo per questo hanno dovuto faticare per riportarmi alla normalità avete cercato anche di non interrompere appunto la catena perché io non sono una specialista però può essere pericoloso però l'ho visto anch'io che in certi casi sì perché in quel caso potrebbe anche essere se la catena inadvertitamente si spezza potrebbe succedere che quell'anima rimanga dentro e ci sia proprio quei casi di schizofrenia dove tu sei anche quella quell'altra anima c'è poi bisogno di un intervento un po' particolare di un intervento un po' particolare ma tu poi parli di anima parli sempre di anima cioè noi direi che spieghiamo bene anche per gli amici di Dijon cioè il punto è l'anima intesa come essenza non in termini religiosi sì certo non in termini la intendo così ecco in termini laici mi sembra laici assolutamente sì sì come essenza che permane anche al di là proprio perché comunque nulla appunto viene distrutto quindi rimane un continuum e diciamo questa essenza che rimane e che rimane anche con una sua coscienza perché poi effettivamente c'è un continuum cioè tu quello che lasci nel momento in cui appunto te ne vai lasci il corpo ecco quella coscienza permane rimane ha una sua continuità nell'altra dimensione sì no appunto adesso tornando poi al discorso sempre dell'orbe sottile in realtà poi appunto tutte le cose sono poi così sono concatenate e quindi riportandoci esiste un filo che unisce le cose perché guarda caso tu eri un po' orientata verso certe cose guarda caso ti trovi tuo malgrado in situazioni anche che vanno oltre diciamo quello che forse ti aspettavi però guarda caso ecco probabilmente potremmo dire che c'è un c'è un filo che unisce un po' tutte le situazioni anche in termini adesso si parla di karma abbastanza a volte anche un po' sproposito poi magari lo affrontiamo questo aspetto chiariamo un po' perché qualcuno dice guarda caso karmicamente mi trovo in quella situazione ma guarda caso non è un guarda caso perché tu avevi già un interesse è certo è certo ecco quindi infatti perché io avrei anche potuto dire ma a me non interessa assolutamente andare a fare questa seduta in realtà io avevo già ho sempre avuto degli interessi per comunque questo mondo del mistero chiamiamolo occulto l'esoterismo ho sempre avuto comunque un richiamo questo richiamo ha fatto sì che certamente io non abbia non abbia detto di no di fronte magari a un esperimento di quel tipo non ci credevamo tanto a dire il vero come ti stavo dicendo che sarebbe riuscito questa cosa però effettivamente se non avessi avuto questo richiamo non avrei neanche non sarei neanche andata penso quindi c'è un filo che effettivamente poi ci porta una concatenazione una concatenazione lì è stato un momento comunque per me importante perché ho scoperto di avere comunque una capacità percettiva di entrare in contatto con altre dimensioni poi in quel momento della mia vita io ho chiuso la faccenda lì nel senso mi sono poi documentata molto su questi ambiti ho letto tantissimo quell'estate però poi non ho voluto proseguire più di tanto in questa direzione no? perché comunque studiavo avevo altre cose certamente altre priorità però è sempre rimasto questo mio interesse anche che poi è anche un interesse per capire alla fine il significato profondo della vita perché siamo qui viviamo una sola volta o viviamo più volte che senso ha proprio la vita capire proprio quella la nostra esperienza terrena è solo qui o c'è altro ecco questo è sempre stata una domanda il significato una domanda per me fondamentale esistenziale sì assolutamente e in effetti come appunto in questa in questo mondo parliamo appunto di eventi che si concatenano anche la telepatia torniamo al discorso perché poi insomma questo sottile è anche legato all'amore per esempio la telepatia è anche è un fenomeno che avviene soprattutto quando si è innamorati che uno dice guarda abbiamo pensato la stessa cosa vero o no cioè c'è un po' questa cosa ecco anche questo è un fenomeno sottile eh sì assolutamente perché adesso la fisica anche rischia di spiegarci delle cose perché insomma parliamo di entanglement parliamo di questi concetti che erano relegati diciamo all'ambiente della fisica ma adesso anche lì forse qualche volta anche a sproposito bisogna fare la pace anche con i fisici con i professori che studiano queste cose da tanto tempo che magari vengono i capelli dritti quando uno parla di entanglement tra due persone innamorate da persone che si amano che non necessariamente devono essere amanti ma magari semplicemente si vogliono bene l'amore esiste in tutte le cose e l'altra faccia del sottile poi al fondo l'amore cioè in questo senso è un'energia è la più potente è proprio la più potente è assolutamente la più potente perché quello che può smuovere tutto è certamente l'energia dell'amore che rende coeso tutto questo nostro universo che il fatto che ci sia questa armonia è certamente l'energia dell'amore è la più potente quella a cui l'essere umano credo debba proprio incontrare pienamente ed esprimere questo è secondo me questa è proprio la direzione quindi ecco perché a volte quando noi incontriamo una persona di cui ci innamoriamo possiamo ecco proprio anche avere delle esperienze un po' speciali un po' particolari come dicevi tu magari ecco questi momenti di telepatia perché lì entriamo in una vibrazione diversa ci lasciamo molto più aperti al sentire ecco direi proprio così perché l'amore non è qualcosa che noi possiamo quantificare con un macchinario non passa dalla mente no infatti ma passa proprio dal cuore e quindi siamo molto più aperti a percepire ad ascoltare a sentire e allora ecco che sì avvengono proprio a volte ecco queste queste percezioni come quella telepatica di aver di aver pensato l'altra persona in quel momento di aver pensato magari la stessa cosa ecco questo avviene molto in quei momenti assolutamente oppure anche a volte per esempio ci sono esperienze molto forti madre e figlio cioè quando il bambino è ancora nella pancia proprio no dove magari a volte la mamma vede come sarà quel futuro bambino o addirittura ho sentito tante storie che prima del concepimento delle mamme hanno visto no che magari ecco sarebbe stata una bambina piuttosto che un maschietto hanno avuto proprio delle percezioni molto chiare o percezioni che ecco quella notte sono rimasta incinta o concepito avvengono questi fatti no perché anche lì noi entriamo in una dimensione del sottile potentissima perché cosa c'è anche di più potente del dare una vita no quindi del concepimento lì proprio c'è una forza incredibile che si mette in moto e quindi molte volte avvengono proprio queste percezioni anche molto forti in quei momenti proprio ecco sono connessioni davvero fortissime quelle che l'amore mette in moto e quindi sono a volte ci sono storie incredibili fra persone che si amano ma anche ho letto per esempio di storie bellissime tra persone e i loro animali domestici quando c'è questo rapporto così di affetto profondo magari ecco la persona può percepire se quell'animale si è fatto male se magari è morto per esempio no o storie anche di animali che si sono fatti vedere dal loro padrone che era lontano e sono morti nel frattempo e si sono proprio fatti vedere è come aver lasciato un ultimo saluto ecco ci sono storie bellissime anche di questo amore fra gli animali e le persone che se ne prendono cura quindi se non si ha paura si può anche avere della poesia in queste cose insomma è assolutamente sì assolutamente però appunto si può trovare il modo di comunicare come dicevi tu su piani diversi no soprattutto insomma quando quindi esiste la possibilità di continuare ad avere un rapporto a questo punto si può affrontare un po' se ci spieghi un po' questo discorso dell'incontro carmico un attimino di più cioè come dire a volte si dice non so in una relazione cioè bisogna stare un po' attenti perché anche molto facilmente si dice che ne so sto male come un cane ma grazie a quella persona io sto crescendo un attimo cioè voglio dire va bene tutto ma anche lì insomma no bisogna anche saper discernere bene perché io a volte capita no che arriva l'amica dice ah io grazie a quella che poi invece magari questa persona purtroppo voglio dire non ha tutte queste come dire queste questo sembra che insomma la persona non possa avere tutto questo valore in quanto catartico nei confronti di insomma ecco l'incontro carmico l'incontro carmico in realtà è una cosa invece bisogna capire se la relazione sei semplicemente esaurita punto certo quindi non vale più la pena dannarsi in una situazione pensando invece che grazie a quella situazione si arrivi a chissà quale catarsi no la catarsi non c'è perché il punto è proprio capire bene questa cosa anche su questo a volte è bene fare un po' di chiarezza no perché involontariamente è anche un po' ingenuamente si magari insomma ci sono persone che sopportano anche delle relazioni a lungo termine a lungo in lungo anche magari di sofferenza sì relazioni magari tossiche relazioni di sofferenza che poi magari possono addirittura sfociare in qualcosa anche addirittura drammatico perché io vedo che tante cose che succedono legate alla cronaca partono proprio dalla cattiva valutazione di una relazione che sembra in qualche maniera far acquisire del valore no in realtà questa persona ha solo incontrato una persona sbagliata insomma e quindi però si dà a volte qualcuno un valore era un incontro carmico un incontro allora se il destino diciamo che ce lo costruiamo un po' noi perché insomma il destino predestinato il destino predestinato forse è un po' ma a questo punto il valore dell'incontro carmico potrebbe essere invece una relazione che c'era nel passato e quindi che continua questo è continua potrebbe essere una cosa che ha valore certo certo assolutamente sì sì io anche ritengo che a volte si dia con troppa facilità questo si dia questa connotazione appunto di incontro carmico ma soprattutto in che termini appunto un po' quello che stavi dicendo tu è l'incontro carmico l'incontro quindi della mia vita e si perde proprio anche un po' il senso appunto critico della valutazione anche di quell'incontro ci sono alcuni incontri carmici certamente di grande valore che ci permettono effettivamente una crescita ma non bisogna mai scambiare questo aspetto comunque con l'idea che sia idilliacoli cioè se un incontro è carmico sarà tutto idilliaco perché molte volte si parte magari in questa direzione in una relazione dicendo io sento una cosa fortissima sarà un incontro carmico è la mia anima gemella per cui tutto dovrà andare liscio e invece poi ci si rende conto magari dopo un po' che si è nella relazione che le cose non stanno proprio così però il guai è che quando le cose vanno male continua a essere un incontro carmico come se qualcuno dovesse espiare chissà quali cose a volte certo ci sono incontri dove attraverso la relazione possono essere anche incontri difficili ed essere incontri carmici perché abbiamo dei sospesi di altre vite dove ci sono degli aspetti non compresi fra le due persone aspetti che vanno appunto risolti in qualche modo l'occasione è quella di rincontrarsi per cercare di risolverli e quindi di trovare il modo di superare quei punti deboli che magari la relazione ha ecco questo sì ci sono poi relazioni che invece effettivamente ci permettono di portare avanti delle affinità comuni quelle sono relazioni carmiche certamente appunto di crescita perché portiamo avanti affinità simili e quindi veramente ci sorreggiamo uno con l'altra e costruiamo veramente qualcosa no io devo dire anche dalla mia esperienza astrologica che quando noi mettiamo confronto due temi fra due persone che sono in una relazione noi possiamo vedere molto bene se c'è stato un passato carmico no e anche di che tipo poteva essere e la motivazione per cui le persone hanno deciso di ritrovarsi no alcuni incontri sono di questo tipo ma non sono effettivamente tutti sempre solo incontri carmici ecco ci sono certamente non so per esempio io ho studiato molto a fondo il tema di John Lennon e Yoko Ono loro osservando i loro temi di nascita si vede che avevano già avuto dei trascorsi in passato e che c'era una motivazione una spinta molto forte da parte di tutte e due queste anime di ritrovarsi poi nella vita presente certamente in questa vita in particolare lei ha dovuto comunque superare una prova molto dura ecco io questo vorrei anche sottolineare che a volte l'incontro carmico poi può anche mettere in gioco delle situazioni anche a volte complesse difficili perché ci deve far evolvere attraverso magari una prova quindi a volte l'incontro carmico appunto non è solo idilliaco tutt'altro a volte è proprio quell'incontro che ci permette di crescere attraverso magari qualche prova evolverci in alteggiamenti sì nelle nostre emozioni nei sentimenti esatto nei sentimenti perché ad esempio se uno guarda proprio questa relazione tra Gianleno Yocono ad esempio lui era un po' un tipo anche farfallone no? e quindi un po' per volta lei cioè tenendo poi a lei perché a un certo punto lei ne ha abbastanza di questi suoi atteggiamenti quindi lo butta proprio fuori di casa e gli dice non ti voglio più vedere nonostante lo amasse tantissimo rimangono un anno senza frequentarsi un anno dove lui comunque tutte le sere praticamente la chiamava perché si rendeva conto che la sua presenza era importantissima ma questo gli permette poi di capire il valore di questa relazione e quindi poi di cambiare il suo atteggiamento allora poi lui ritornerà cioè Yocono lo riprenderà perché lui diceva io ho capito e sono anche cambiato e quindi loro riprenderanno questa loro relazione decideranno poi di fare un figlio insieme un figlio che sarà amato e seguito da John Lennon cosa che lui non aveva fatto col suo primo figlio assolutamente e quindi lui ha avuto una maturazione quindi ecco che lì l'amore karmico ha veramente senso perché comunque c'è una maturazione questo chiaramente anche da parte di lei c'è stato un lavoro no? comunque per far sì non so ecco per esempio di riaccettare la persona di ricominciare la relazione quindi ecco che proprio lì si imparano c'è proprio una crescita emotiva no? affettiva all'interno della coppia poi certo lei dovrà vivere poi questa esperienza della morte di lui quindi quelle sono poi le esperienze a volte più forti più dolorose che però molte volte sono quelle che portano gli insegnamenti più grandi interessante e poi appunto però ecco da questo punto di vista con questi quando ci sono dei rapporti intensi e profondi fra anime affini sia poi appunto il desiderio di ritrovarsi di ritrovarsi sì assolutamente sì e quindi molte volte ecco le anime proprio si ritrovano si rincontrano perché c'è proprio questo desiderio no? e a volte anche quelle relazioni che pagliano diciamo a volte anche strane no? tipo magari coppie dove c'è una forte differenza di età spesso c'è proprio ci sono proprio questi vissuti antichi e magari la decisione di ritrovarsi in un certo momento in una fase della vita di ognuno dove ognuno potrà dare all'altro qualcosa qualcosa di importante no? io avevo per esempio questo carissimo amico che tra l'altro giornalista e scrittore di tanti libri che riguardano il sottile il suo nome è Peter Tonkins è stato veramente un grande amico e ad esempio lui la sua ultima relazione era con una donna di 45 anni più giovane di lui quindi veramente una età enorme però c'era un'affinità d'animo no? di anime talmente forte e quando loro me lo raccontavano si sono incontrati ed è stata un'amica di ambe due che li ha fatti incontrare a proposito di trame bellissima questa storia perché lei aveva conosciuto lui poi aveva conosciuto lei ma e aveva capito che loro due avevano delle affinità incredibili quindi ha detto bisogna che io le faccia incontrare quindi si sono incontrati ed è stato amore a prima vista cioè c'era una tale affinità una tale assonanza che da lì in poi loro si sono sempre frequentati fino a che poi si sono anche sposati una storia bellissima questa no? proprio di affinità di anime no? al di là di qualsiasi cosa al di là di qualsiasi cosa razionale all'aspetto assolutamente anche quello a volte oggettivo o sociale perché in questo caso uno potrebbe anche contestare queste grosse differenze di età magari no? la società sempre meno sicuramente oggi come oggi però ecco una storia bellissima di affinità di anime questa per esempio no? sì però certamente ambe due erano persone che vivevano molto questo aspetto del sottile quindi erano pronti a ritrovarsi no? erano proprio pronti a ritrovarsi tutte e due assolutamente si sono riconosciuti immediatamente le anime si sono proprio riconosciute io credo che ogni tanto questi riconoscimenti ci siano e ci sia proprio come un'emozione molto forte che avviene all'interno della persona e dice sì quest'anima l'ho già conosciuta c'è una familiarità particolare no? infatti una delle storie che appunto è contenuta nel mio libro è proprio questo aspetto questo ritrovarsi fra anime e il disastro che la protagonista affronta è proprio come dire è quasi ripagato dal racconto di questa di questa relazione perché poi appunto è un amore di questa relazione che non solo si esplica nel momento presente ma anche dei riferimenti nel passato e anche quindi diventa l'eredità che la protagonista poi darà alle sue figlie ecco quindi diventerà un pezzo di una parte di questo valore che lei vuole poi trasmettere attraverso appunto queste meraviglie del sottile che accadono che incontra che 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 vede che che la stupiscono sempre che apparentemente sembrano sembrano come delle come delle perle infatti l'editore ha voluto mettere la foto di una donna qualcuno ha detto ma sei diventata mia vabbè no cioè io volevo la collana di perle in copertina il mio editore ha voluto questa copertina qua per non dispiacermi ma il concetto è proprio questo che le cose a volte si allineano come perle su di un film e quindi poi alla fine quando chiudi poi questa collana che poi è anche un po' una delle protagoniste di questo romanzo cioè quando chiudi questa collana allora cominci a dire ecco è proprio così che non è un disegno fuori di te è un disegno dentro dentro assolutamente sei tu stessa che cerchi delle cose delle relazioni delle situazioni non è che ti arrivano dall'esterno sei tu che più o meno consciamente a volte anche inconsciamente attiri delle circostanze di un certo tipo eh sì assolutamente proprio così perché molte volte se noi guardiamo no eh al appunto alle nostre vite vediamo che c'è proprio un filo conduttore proprio questo filo di perle che eh hai menzionato è proprio così perché le cose hanno una concatenazione e vedi proprio un disegno una trama no dietro poi a tutta eh a tutta la vita no infatti è molto bello questa questa metafora della collana di perle così come di una trama eh intessuta no eh di vita è così la nostra vita è così e quindi ci sono proprio questi fili che collegano le situazioni le circostanze le persone ed è quella magia della vita no che eh non si può spiegare proprio razionalmente è la magia della vita ecco la vita ha veramente qualcosa di magico basta coglierlo è veramente una magia incredibile no è proprio la bellezza della vita no è questo è proprio questo e quindi senti eh parliamo appunto del 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 fatto che tra le tue esperienze personali ci sono appunto questi luoghi di alta energia io ti ho conosciuto per quando mi avevi portato alle tombe di giganti a Palau a Palau a Palau fra l'altro la famosa foto la famosa foto e io quel giorno lì non so se te l'avevo detto non so se te l'avevo detto ma io quel giorno lì per arrivare giù scesi dalla scaletta dell'aereo e non facevo fatica a camminare perché avevo un problema ad un ginocchio non lo so se te l'avevo detto ma ecco mi sembra che sia questo sia un posto lo riconosci questo posto lo riconosco anche io perché quando io ti dissi ma io sono fatto fatica a scendere dalla scaletta dell'aereo perché devo avere qualcosa che non va bene in questo ginocchio tu mi hai detto ah non c'è problema basta che lo infili qui sotto o in un posto del genere mi sembra questa è una delle tombe di giganti sì esatto una delle tombe di giganti proprio quella di Limitsani a Palau ecco e io non ho più avuto un problema a quel ginocchio me ne sono dimenticata ok quindi devo dire che insomma è successo è una cosa che è accaduta quindi sono fatti sei testimone sei testimone di una cosa che è accaduta io anche per il mestiere mi sono trovata quindi diciamo che i luoghi dell'energia tanti luoghi tu mi dicevi se ho studiato bene sono anche legati all'acqua mi pare no sì anche all'acqua sì hanno spesso la presenza dell'acqua consuetudine ai vecchi insediamenti insediamenti paleolitici eccetera avevano quasi una consuetudine a cercare un posto dove c'era l'acqua per poter in qualche maniera sfruttare appunto sfruttare la capacità questa proprietà conduttrice dell'acqua che se l'acqua si trova su un punto di alta energia positiva non farà altro che amplificare quella positività e pertanto i luoghi antichi le strutture sacre antiche hanno quasi sempre questi passaggi di acqua sotterraneo che permettevano di amplificare quella che è già l'energia naturale e renderla di una frequenza ancora più sottile e anche benefica proprio per il nostro corpo sia per la nostra parte più fisica e anche proprio quella più sottile perché questo tipo di energia opera su tutta la nostra parte quella appunto corporea fisica tangibile ma anche l'altra perché sono frequenze appunto molto elevate e sottili al tempo stesso si spiega perché anche gli insediamenti a volte si sovrappongono esattamente brava i siti paleolitici spiegalo tu che sei infatti poi all'inizio comunque del periodo comunque cristiano la chiesa ha utilizzato moltissimo i vecchi siti pagani perché sfruttava quegli stessi criteri energetici quindi le primissime chiese ma poi anche in seguito le cattedrali sono state comunque realizzate tutte con dei criteri di tipo energetico perché c'era proprio questa conoscenza che sfruttava queste proprietà naturali e le amplificava di modo che il fedele entrando in una chiesa così come in una cattedrale sentisse qualcosa un'emozione particolare qualche cosa anche a livello proprio fisico che ti faceva capire di trovarti in uno spazio che non era quello della quotidianità ma uno spazio appunto sacro uno spazio dove tu potevi incontrare Dio la divinità se parliamo di tempi pagani ma incontravi quindi questa realtà che è al di fuori dell'aspetto più tangibile della vita perché comunque la visione dell'uomo antico è sempre stata una visione dove tutto è sacro dove c'è qualcosa che non è così tangibile qualcosa c'è qualcosa di invisibile qualcos'altro che va oltre appunto all'aspetto più fisico e tangibile e ricercavano proprio questo tipo di contatto moltissimo in antichità tutte queste culture avevano una base sciamanica erano un tipo di religiosità magico sciamanica per cui si incontravano proprio queste altre dimensioni queste realtà si viaggiava fra i mondi anzi lo sciamano la sciamana era preposta proprio a fare questi viaggi andare in contatto con altri mondi da lì anche catturare messaggi o per esempio lavorare per la guarigione di qualcuno che presentava delle malattie ma sempre tutto arrivava attraverso il contatto con queste altre dimensioni questo era fondamentale e quindi c'era proprio c'erano molte meno barriere si valicavano spesso queste porte tra il qui e l'altrove era molto comune era più normale era più normale l'uomo diciamo che utilizzava molto di più la parte psichica potremmo dire utilizzava molto di più questa parte percettiva che noi abbiamo poi a un certo punto noi siamo diventati man mano più razionali più intellettuali abbiamo cominciato a utilizzare molto di più la parte mentale non che questo sia negativo perché comunque secondo me nell'evoluzione dell'essere umano tutto anche qui serve tutto ha uno scopo ora si tratta che abbiamo acquisito questa parte si tratta anche di ritornare a utilizzare meglio quella parte intuitiva e percettiva e saperle utilizzare proprio tutte e due come dire utilizziamo tutti e due gli emisferi del cervello impariamo utilizzarli allora la nostra potenzialità aumenterà tantissimo no sì secondo me l'uomo si sta un po' sta un po' andando in questa direzione no anche dell'utilizzo di nuovo maggiormente di queste capacità che comunque abbiamo perché poi alla fine noi utilizziamo sempre una minima parte di quello che poi sono le nostre capacità anche cerebrali no e poi appunto sono antiche tradizioni che magari abbiamo dimenticato che però sono fanno comunque parte degli aspetti naturali che ci circondano tu parlavi prima delle erbe parlavi prima appunto dei fiori di Bach mi ricordo sempre quella volta che ci siamo incontrati perché tra volte eri stato a Palau mi ricordo che avevo incontrato sempre in Sardegna un personaggio molto simpatico che toglieva il malocchio per poi esatto lo zio Cilorno ti ricordo di lo zio Cilorno che è mancato a cento e passa anni anche lui e mi raccontava oltre che da togliere il malocchio e lì c'era il fotografo che era scettico io mi ricordo che era il fotografo che era scettico e diceva vabbè adesso con questi tuoi misteri anche stavolta dobbiamo trovare qualcuno che ci dica le messe una stupidaggine eccetera in realtà lui ci credeva di più ancora di me però come al solito le solite resistenze eccetera aveva un problema allora lo zio Cilorno gliel'ha risolto a distanza addirittura e infatti ancora adesso qualche volta ne parliamo col fotografo che poi siamo rimasti amici così mi ha detto ma tu ti ricordi lo zio Cilorno che raccontava appunto lui a suo tempo quando l'avevo intervistato io aveva più di 90 anni mi ricordo e mi raccontava che insomma era poco tempo aveva fatto il pescatore tutta la vita era poco tempo che insomma era rimasto a casa anche perché insomma aveva bene aveva una certa età e mi diceva sì tanto adesso mi aiuta poi il mio nipote e io pensavo al nipote giovane baltanzoso eccetera il nipote aveva 85 anni ecco e in realtà poi da questa cosa era venuto fuori il discorso che ad Arbatax ci sono energie sottili un po' particolari cioè nella serie che chi auspica di vivere a lungo magari un giro ad Arbatax potrebbe anche farselo perché ci sono proprio anche dei luoghi in cui le persone sembrano direttora vivere più a lungo che in altri posti non è solo Arbatax e Ponza io avevo trovato una signora che faceva la guaritrice a Ponza e anche lei a vederla sembrava molto più giovane però in realtà e mi raccontava che appunto ma sono luoghi non si sa bene se queste energie perché c'è un aspetto sicuramente geologico eccetera scientifico che può dirti non so la zona vulcanica sicuramente delle proprietà la zona di un certo ecco però c'è veramente sempre un po' questa cosa in più che si aggiunge che che diventa inspiegabile infatti il fotografo ancora si domanda come ha fatto a distanza questo signore però appunto le energie poi non conoscono né tempo né spazio né confini a questo punto e quindi si può interagire no? assolutamente anche a distanza assolutamente ma queste energie però c'è qualcuno che però si sente male quando ha a che fare con queste energie tu mi dicevi che addirittura di un episodio no? che hai vissuto tu no? di una persona che cioè senza entrare poi nei particolari ma insomma ci sono dei luoghi in cui le persone magari entrano oppure così e hanno delle percezioni negative ecco anche questo potremmo possiamo ricordare sì allora diciamo che allora abbiamo due due tipologie allora a volte può capitare che anche in un luogo molto benefico no? come per esempio dove sei stata tu a questa tomba di giganti che sappiamo dai greci che lo hanno riportato era uno dei luoghi preposti alla guarigione degli antichi sardi quindi sfruttavano queste energie naturali e poi anche tutti quei criteri che avevano adottato per la costruzione del monumento per appunto rendere queste energie particolarmente benefiche poi noi entriamo in risonanza con madre terra con il granito perché siamo fatti comunque di sostanze simili no? però a volte può capitare che una persona che abbia per esempio dei blocchi dei malesseri possa all'inizio non sentirsi subito bene in un luogo come questo proprio perché l'energia deve sbloccarsi deve quindi smuoversi no? e allora magari può avere un primo sentore a volte che può sembrare oddio qui è negativo perché mi sento male sento mal di testa sento la nausea il concetto dell'omeopatia che stai bravissima 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 e questo è un fattore ci sono invece luoghi che conservano delle memorie per il fatto che magari lì sono accaduti dei fatti cruenti e quindi sono luoghi che al contrario hanno proprio un'energia molto bassa una frequenza bassa per quello che è successo perché i luoghi trattengono proprio le memorie come anche gli oggetti e quindi andando in un luogo come quello uno può sentirsi proprio male perché lì magari appunto è successa una battaglia piuttosto che un omicidio e quindi il luogo mantiene quel tipo di memoria che è molto pesante chiaramente allora lì si può stare veramente male a volte ci sono luoghi dove uno dice no qui non ci riesco a stare devo andarmene possiamo avere a volte quelle sensazioni allora lì è interessante magari indagare proprio se in quel luogo possa essere avvenuto qualche fatto no oppure siamo noi in relazione magari oppure siamo anche noi in relazione con quel fatto perché in qualche caso può essere che magari chi lo sa noi in quel luogo ci abbiamo vissuto e forse è successo qualcosa di negativo o di pesante e quindi in quel luogo noi non stiamo bene no a me era capitato anni fa di andare a fare un sopralluogo in un ecovillaggio in Veneto un ecovillaggio che stava nascendo era un progetto no e però era un progetto che aveva sempre degli impedimenti non andava mai avanti no c'era sempre qualche problema guarda caso e allora una delle socie di questo progetto era una mia carissima amica sapendo che io mi occupavo di energie sottili dei luoghi un giorno mi invita ad andarlo a visitare ha detto vediamo cosa senti tu quando arrivi qua e quindi arrivando lì si percepiva che c'era comunque un'energia ristagnante un'energia pesante soprattutto in quel caso soprattutto un'energia pesante e allora indagando beh lì era venuto fuori che luogo si trovava questo ecovillaggio che stava per voleva nascere si trovava proprio vicino dove era stata combattuta una delle battaglie più pruente della prima guerra mondiale e quindi lì era rimasta questa impronta di memoria ma anche sempre attraverso l'indagine fatta e era anche emerso che c'erano ancora anime appunto che erano rimaste intrappolate lì cioè avendo combattuto in quella battaglia non erano ancora riuscite a lasciare questo piano erano ancora così nel limbo e e quindi non erano ancora andate verso la luce allora queste erano anche diciamo erano anche un disturbo per il luogo stesso ma anche allora poi indagando sempre in questa situazione qua era anche emerso che uno dei soci che si era tolto dalla società quella che faceva l'ecovillaggio che faceva l'ecovillaggio esatto andando lì quando era stato comunque acquistato questo terreno si sentiva ogni volta che andava male diceva io qua non sto bene sto male sto male sto male e quindi alla fine lui aveva detto no io non posso far parte di questo progetto e quindi mi tolgo e allora sempre facendo un'indagine era emerso che in effetti lui era stato in una vita precedente proprio una delle persone che aveva combattuto in quella battaglia e quindi aveva addirittura una memoria in questo caso proprio di tipo carmico che incideva moltissimo anche sul suo stato d'animo nel momento in cui era lì e quindi c'era una situazione che effettivamente rendeva e come avete scoperto questa cosa in questo caso io utilizzo utilizzo sempre il metodo cosiddetto della radiestesia la radiestesia vuol dire è quella disciplina che permette proprio di percepire le realtà sottili ok e quindi attraverso l'utilizzo di strumenti che poi sono il pendolino piuttosto che la forcella si può proprio entrare in connessione no attraverso comunque delle tecniche un procedimento di focalizzazione e trovare delle risposte a quello che c'è intorno a noi è bellissima la radiestesia apre davvero un mondo ma nel senso che tu fai delle domande si fanno delle domande si si hanno delle percezioni e poi si fanno delle domande per appurare le situazioni e poi diciamo in base al movimento del pendolino del pendolino esatto la bacchetta c'è chi usa la bacchetta di salice mi pare sì di salice esatto ecco in base appunto al movimento che può dare una risposta affermativa o negativa alle domande che si fanno occorre chiaramente avere molta pratica ed essere ben focalizzati su quello che si chiede saper porre bene le domande ma si possono fare delle indagini molto interessanti e ricostruire quindi episodi che magari e poi vengono verificati possono essere certamente verificati esatto negli archivi assolutamente dei censimenti delle storie si può verificare ecco perché si può verificare uno può avere anche delle intuizioni ma il bello è quando tu vedi che c'è successo veramente qualcosa esatto esatto oppure a volte verificare anche attraverso magari ancora il ricordo che ci può essere delle persone presenti e quindi magari c'è un ricordo che poi può permettere delle verifiche ma è molto interessante sì 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 e poi certamente ci sono anche modalità e tecniche per poter liberare questi luoghi poi da queste energie che rimangono impressi lì le memorie possono essere ripulite quindi attraverso delle tecniche si può bonificare proprio un luogo e quindi permettere all'energia di nuovo di fluire è un po' come quando noi approcciamo non so l'agopuntura no l'agopuntura vede dove ci sono i ristagni energetici ai blocchi e attraverso appunto no l'andare su determinati punti va a liberare l'energia no ristagnante in modo che fluisca e la stessa cosa può valere proprio per i luoghi ma la vecchia consuetudine di mettere le cose nel sale oppure mettere il sale sulle cose è vero oppure è un mondo no no il sale funziona molto bene il sale è un grande grande purificatore per cui ad esempio mettere negli angoli della casa del sale aiuta molto a ripulire a volte si dice anche mettere una bacinella piena d'acqua e del sale sotto il letto per purificare l'ambiente o anche proprio per purificare noi stessi quando magari siamo stati in contatto con delle situazioni magari un po' pesanti nella nostra vita non so la sera magari siamo anche stanchi per tanto contatto con tanta gente no con le quindi le sue emozioni le sue forme pensiero fare un bel pediluvio mettendo del sale si scarica tantissimo sì sì quello aiuta moltissimo e ci ritempra molto così come anche un bagno in mare ha anche proprio aiuta a ritemprarsi anche in quel senso quando uno si sente appesantito perché ha avuto tanti contatti con le persone e a volte insomma assorbiamo e noi siamo proprio a essere in continua interazione con tutto tutto in effetti appunto avendo a che fare con la comunicazione con tante persone nel caso tuo nel caso mio appunto per il lavoro che faccio beh mi sa che sì sì è un metodo che funziona però mi lo sono sempre domandato perché mi dicevano magari così metti questo oggetto l'anello cosa ogni tanto mettilo nel sale non si sa ma mi sembravano cose un pochino più scaramantiche che non altro però se invece appunto effettivamente c'è questo tipo di insomma stiamo parlando tutta la sera che parlavo di queste energie sottili per cui evidentemente basta solo utilizzarle bene ecco cioè perché poi alla fine non c'è niente di innaturale in tutto questo ecco assolutamente tornando al concetto della paura cioè si ha paura quando si pensa che ci sia qualcosa di diverso dalla natura di diverso in realtà sì sono sono tutte cose naturali occorre imparare appunto a riconoscerle e gestirle no e poi è sempre tanto importante il nostro intento no come noi ci approcciamo allora se noi comunque ci approcciamo le cose con un intento del cuore non può arrivare veramente danno non può arrivare un danno e soprattutto quando c'è un intento del cuore finiamo per attirare a proposito no di attrarre ne abbiamo parlato tanto questa sera attrarre frequenze positive frequenze elevate per cui tutto se c'è purezza del cuore se c'è un intento d'amore arriveranno energie sicuramente che non è il voler se bene è un volersi bene avere rispetto della vita poi alla fine sì certo perché il punto è proprio questo cioè parte da se stessi che a volte invece è difficile avere rispetto di se stessi addirittura no quindi ecco perché è una specie di rivoluzione questa questa visione più diciamo che sembra più antica ma in realtà ci porta verso la modernità cioè verso il futuro tu parlavi dell'età dell'acquario ma ne parliamo da un bel po' di tempo cioè dovremmo essere già entrati siamo entrati dobbiamo entrare com'è la storia quanto dura questa età dell'acquario allora sì allora l'età durano tutte all'incirca 2160 anni ma non c'è proprio una data precisa il tal giorno arriva quella quell'età no ma si entra piano piano no gradualmente da un'epoca se ne passa un'altra da un'età si passa un'altra era quindi noi stiamo effettivamente entrando ma ormai possiamo dire che ci abbiamo già messo il primo piede bene in questa era dell'acquario potremmo dire che certamente si sono cominciati a vedere bene i segnali intorno agli anni 60 50 60 quando ha cominciato a esserci questa rivoluzione anche della modernità tecnologica perché l'acquario è molto legato come segno zodiacale quindi come vibrazione la sua caratteristica è proprio un legame con la tecnologia e quindi noi vediamo come negli ultimi decenni ci sia stato uno sviluppo tecnologico fortissimo e molto veloce l'acquario è un segno della velocità perché è legato al pianeta urano che è un pianeta appunto che esprime proprio la velocità in cui le cose avvengono e è anche tra l'altro un'energia che si evolve molto rapidamente per quanto riguarda la comunicazione perché l'acquario è un segno legato alla comunicazione segno di aria e vediamo appunto come questa si sia veramente diffusa da tanti punti di vista sia perché sono nati i telefonini perché tutti noi possiamo utilizzare molto di più questi mezzi abbiamo tantissime occasioni di essere appunto collegati dal punto di vista di queste modalità ecco tutto questo è molto molto dell'acquario ma anche da un punto di vista sociale siccome l'acquario è un segno molto tollerante accetta molti modi di vita visioni diverse ecco che noi vediamo che viviamo in un'epoca in cui c'è comunque più tolleranza rispetto alle diversità se noi avessimo detto negli anni 50 o inizio anni 60 che un giorno magari i gay si sarebbero potuti sposare avremmo detto hai le traveggole ma che cosa dici invece oggi ecco che questo in diversi posti non è ancora certo ovunque per carità però vediamo che c'è proprio una maggiore tolleranza di chi è diverso ma pensiamo anche comunque la donna che sta prendendo comunque sempre più ruoli anche importanti nel nostro mondo quantomeno occidentale c'è una libertà anche di costume maggiore poi è chiaro che nei diversi luoghi del pianeta dipende no le cose vanno a livello interiore questa era dell'acquario è un'opportunità appunto di crescita di crescita per ciascun essere umano per ciascun essere umano grande crescita perché questo perché l'acquario viene simbolizzato è una sua caratteristica è simbolizzato da un essere umano come tu sai e come chi ci segue sa la maggior parte dei seni zodiacali è rappresentato da animali che rappresenta la coscienza diciamo non ancora così elevata dell'essere umano invece l'acquario è un essere umano e tra l'altro un essere androgino originariamente quindi questo vuol dire che questa sarà un'era che dovrà portare essendo molto lunga ed essendo appena all'inizio abbiamo migliaia di anni ancora davanti a noi un'era in cui si potrà arrivare finalmente a una parità tra i due sessi un'integrazione proprio delle due energie maschile e femminile mantenendone la differenza mantenendone certo anche ovviamente le differenze volevo dirti questo perché il tempo è volato e quindi abbiamo solo più cinque minuti una domanda che volevo farti già dai tempi scusa se cambio argomento ma perché si chiamano tomba di giganti tombe di giganti e non dei giganti e poi mi ricordo che erano lunghe cioè non lo so c'entra qualcosa allora il nome praticamente allora questo nome è stato dato dall'archeologia ok quando hanno cominciato a farsi i primi scavi qua in Sardegna sono state definite così intanto perché sono stati anche ritrovati frammenti di ossa per cui sappiamo che erano tombe erano comunque luoghi di sepoltura ed è stato tradotto dal Sardo perché in Sardo la tomba di giganti è chiamata Sadomu e Sorcu cioè la casa dell'orco e quindi questo orco tradotto poi con gigante no quindi il nome è stato dato da questo per questo motivo no sono certamente erano sepolture collettive avevano questi lunghi corridoi che erano degli ossari perché qui in Sardegna anticamente la sepoltura veniva fatta appunto solo con le ossa la tradizione funeraria era che quando una persona lasciava il corpo il corpo veniva lasciato gli elementi naturali poi queste ossa venivano raccolte ripulite lavate venivano veniva data l'ocra rossa simbolo della vita che continua nell'altra dimensione e poi deposte in forma fetale all'interno di questi lunghi corridoi quindi abbiamo generazione e generazione però in Sardegna si raccontano anche ci sono tante leggende di giganti gigantesse proprio persone alte no perché l'altra puntata che abbiamo fatto a Bridges o Let dei miei misteri del mio salotto avevamo come ospite appunto uno degli ultimi diciamo portavoce degli ultimi testimoni di un gruppo di persone che avevano che hanno avuto a che fare con extraterrestri che avevano delle dimensioni cioè avevano un'altezza particolare arrivavano addirittura secondo loro a tre metri e in quell'occasione ci siamo anche un po' divertiti perché in questo senso è un po' strano spiegare che queste persone avevano a che fare con questi extraterrestri alti tre metri ma mi sei venuta in mente tu con questa leggenda appunto che c'è in Sardegna perché poi i giganti si trovano spesso nelle nelle tradizioni anche assolutamente ma sono state Nord America tantissimo Nord America hanno trovato moltissimi scheletri giganti in Nord America però in Sardegna ci sono allora tra filetti no proprio dell'Unione Sarda quindi del del giornale diciamo della Sardegna in cui già inizio novecento ma poi anche negli anni cinquanta che è stato un periodo di grande fervore archeologico sull'isola di ritrovamenti di ossa gigantesche però peccato che non abbiamo mai visto delle foto il problema è questo quindi se sono state trovate come è stato scritto nei trafiletti perché non sono state documentate attraverso delle foto ecco questo è quello che un po' dispiace no perché effettivamente se sono stati trovati boh vengono occultati o va a sapere insomma non non si indaga più di tanto in questo abbiamo ancora tanti misteri davanti voglio ringraziare Arianna Mendo grazie a te ti spresto per altre cose lo spero anch'io tantissimo ringraziamo Bridges of Light che è la nostra piattaforma che ci ha ospitato stasera e il mio libro è il romanzo l'amore sottile bre edizioni che ci dà lo spunto per questi per questo salotto del mistero di cui ti ringrazio ancora io sono ancora io sono ancora io a ringraziare te per avermi accolto nel tuo bellissimo salotto seguirò sicuramente tutte le altre tue dirette perché sono molto molto interessanti aprono queste porte al mistero saluto anche tutti coloro che ci hanno seguito e a presto grazie grazie mille buona serata a tutti e a tutti gli amici ciao